Ma io spererò sempre e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. Salmo 71, versetto 14 Il premio della fede Il salmista, nei versetti che precedono quello citato, narra alcuni episodi spiacevoli che hanno segnato la sua vita, eppure la sua considerazione sfocia in un incoraggiamento. Dio si è glorificato per questa affermazione di fede, ma io spererò sempre. Poche parole scritte con la certezza che la fede riposta nel Signore sarà ripagata nonostante tutto. Vale anche per te. Se oggi ti trovi in una situazione spiacevole, non arrenderti, non abilirti, alza il capo perché Dio non ti ha abbandonato. Lui è lì, pronto ad aiutarti, deve solamente crederci. Il Signore non ti richiede alcuno sforzo mentale o fisico, è soltanto in attesa che tu possa lasciare nelle sue mani la tua vita. Molte volte, umanamente, è difficile anche soltanto pensare di credere che una situazione possa avere una soluzione oggi. Però, davanti a te c'è ancora una possibilità. Credi che Dio possa fare qualcosa per te? Allora fidagli il tuo problema. Egli ti aiuterà. Così come fece il salmista, anche tu potrai ringraziarlo e aggiungere alle tue esperienze di vita una vittoria di fede.